Siamo felici di essere qui questa sera, grazie a Federfarma e a Perrigo, riusciamo con il calcio sociale a Corviale, al campo dei miracoli di Corviale, una periferia di Roma dove c'è il palazzo, il grattacielo orizzontale più a lungo del mondo, riusciamo oggi, grazie a voi, ad accogliere molti più ragazzi, ad accogliere molti più bambini dalla strada e dargli la possibilità veramente di avere degli strumenti, un anno di formazione, un anno di sport, un anno di accoglienza, un anno di assistenza per difenderli dalla criminalità, dal degrado che purtroppo vigge e comanda il quartiere di Corviale e quindi grazie a voi c'è una speranza in più per tanti bambini di Corviale.